Signor Mortara, suo figlio Edigardo, è stato battezzato per l'ordine di prenderlo. Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Voglio portarlo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Edigardo! Secondo il diritto canonico. Questo creerà nuove attenzioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo! No! Questa è la tua famiglia adesso. Grazie. E course. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti